La serata particolarmente interessante è quella di questa sera al DART Festival con Isabella Ragonese, Lady Grey, una serata molto importante anche perché il personaggio, l'artista è di fama internazionale. Abbiamo il nostro assessore Marco Basile che ci fa un po' da cicerone di questa serata ma anche di questo DART Festival, abbiamo già parlato di conferenza stampa, ma stiamo entrando nel clou. Voglio dire la serata di questa sera è una serata particolare, Isabella Ragonese sicuramente è un grande personaggio soprattutto del cinema in questi ultimi momenti ma molto da anche al teatro. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di avere Elio Germano, quest'anno il nome importante è Isabella Ragonese. Il tema di questa edizione comunque ricordiamo è Animali, Animali, Iconi. Sì, in realtà è Animali e poi il tema deve partire voglio dire dall'animale per arrivare a quella che è l'anima. Siamo partiti in una casa con uno spettacolo molto duro, molto forte, presentato da Manuel Renga e da giovani attori della Paolo Grassi come Cani al Guintaglio e vogliamo arrivare a Maddalena invece in un percorso che ci deve riportare alla ricerca dell'anima dell'uomo più profonda. Lady Grey per la regia di Silvio Peroni, il regista è qui con noi, ecco questo spettacolo che portate in giro, portate avanti con questa grande attrice, com'è? Vabbè, a Toscolano adesso siamo abbastanza di casa, ormai è il terzo anno, noi, io e Pierfrancesco Pisani che è il produttore e siamo abbastanza di casa perché è il terzo anno, ora ne faremo anche un altro lunedì sera con Vito, comico bolognese. Lady Grey è uno spettacolo, anzitutto la regia l'abbiamo fatta io e Isabella Ragonese assieme, diciamo. Lei è l'interprete, è un monologo, è un monologo che noi, quest'autore, l'abbiamo già scoperto, diciamo, in Italia per la prima volta l'anno scorso con Elio Germano, con Tom Paine basato sul niente, questo si intitola Lady Grey con le luci che si abbassano sempre di più. Quindi già i titoli sono abbastanza programmatici di che cosa è poi la tematica, sia il basato sul niente che il con le luci che si abbassano sempre di più. Insomma, sono queste due persone disadattate forse, che si abbandonano forse per l'unica volta della loro vita a parlare col pubblico e a parlare della loro vita con un linguaggio dell'autore che lui è stato candidato ai premi Pulitzer, ha vinto il Fringy Festival e è stato paragonato a Beckett proprio, quindi è insomma un autore estremamente particolare. Credo per chi si avvicina questa sera a questo momento di teatro qui a Toscana Maderno abbia un dubbio, abbia un dubbio emletico, Garibaldi si sente a cavallo, Vito dovrà svelarlo, questo è lì, gli spettatori che sono in sala, lo sta già facendo da oltre un anno, ecco questo se Garibaldi scende da cavallo. Beh, speriamo non scenda, è meglio che stia lì, perché se dovesse scendere da cavallo, insomma, vedrebbe un'Italia non esattamente come lui l'avrebbe voluta, un'Italia leggermente diversa, un'Italia figlia dei nostri giorni e dei nostri tempi, però è meglio se Garibaldi resta a cavallo perché ci rimarrebbe veramente tanto male. Quest'Italia come la racconti tu o come hai trovato materiale o gli autori? Sì, l'autore che è Maurizio Garutti ha fatto una ricerca storica della vita di Garibaldi, ma una vita che non si trova nei libri di storia, noi raccontiamo un Garibaldi un po' diverso, raccontiamo le debolezze di questo grande eroe, perché lui ne aveva una di debolezza molto forte, che erano le donne, c'era un tomber de fam spaventoso Garibaldi, perché tutte le volte che si fermava da qualche parte e dormiva c'era una rapide, ma con chi dormiva Garibaldi? Hai capito? No, viene fuori un aspetto di quest'eroe diverso che lo rende ancora più vicino a noi, perché lo umanizza, lo umanizza molto. Tu l'anno scorso avevi portato qui Ligabue, Gagattini, anche un altro Ligabue che amava le donne, anche se in un modo diverso questi due personaggi si abbinano. Beh vedi, in qualche modo sì, c'è un fattore comune che sono le donne, ma infatti anche alla fine dello spettacolo io racconterò alcune storie legate in qualche modo a Garibaldi, cioè a un certo punto dico che cosa avremmo noi oggi in comune con Garibaldi? L'assolutezza civica e morale, l'assoluto disprezzo del denaro, c'è una cosa che in qualche modo ci lega, che sono le donne, ma non le donne di adesso, le donne diciamo degli anni 50, quando si stava davanti al bar e lì comincia a raccontare la storia delle donne che c'erano una volta, come Garibaldi in qualche modo poteva anche lui conquistare quelle donne. Poi andiamo fino alle vacanze, dove racconto che se Garibaldi non avesse perso Anita, forse in agosto le vacanze sia a Porto Garibaldi, hai capito? Quindi c'è una memoria storica grossa che è quella di Garibaldi, il pensiere. Poi c'è una memoria quotidiana nostra di tutti i giorni che è uguale, è importante anche quella, perché se noi conosciamo bene le nostre radici, sappiamo bene da dove veniamo, anche con il racconto, con la memoria, con il racconto orale, le nostre storie, quello che noi abbiamo vissuto, allora riusciamo ad andare avanti, ma se ci dimentichiamo di tutto è difficile poi proseguire la strada, ci si inciampa. Comunque Garibaldi rimane lì sul cavallo. Garibaldi sta lì, ben ancorato sul cavallo.